...spezialmente nessuno lo fa disolverato, al cuore io amo, ed all'uno il cuore, eterno, e bello, e adiano, con grande splendore, da te artisti di forte significazione. ...bella, è stato modificoso, mi piaceva, l'ho già visto, no? ...la pioggia, le gocce d'acqua su una roba... ...per il quale tu dirittura dava sospettamento. ...la vita tossini sicure persona, la quale è molto inutile, e tumile, e preziosa, e casta. ...mi ne passano. ...la vita tossini sicure, per il tuo cuore, per il quale non mi è rotta, e te lo è bello, e ti ho conto, e trovo su una forte. ...la vita tossini sicure, per il quale non si stende il governo, e pronunce diversi frutti, con colori di flore. ...la vita tossini sicure, e non lo ha detto, ma 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 non lo ha detto. ...la vita tossini sicure, ma non lo ha detto. ...nella seconda decada del 1200, giungono in città, l'uomo di raffreddetti, olemico di Assisi. ...fratte di noi li chiamavano il loro fondatore. ...francescani, vennero chiamati successivamente dalla gente, e maritone dopo maritone. ...inizia la storia di San Francesco del Prato. ...ALBIATAL ... ... ... ... ... non è stato un po' di passaggio, non è stato un po' di passaggio ah, non è un po' malo il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.